Confindustria Siracusa, sostenere le imprese, bivona, chiediamo l'impegno di tutti per aiutare la nostra economia. Confindustria Siracusa sta sostenendo con forza quattro provvedimenti all'attenzione del Parlamento e del Governo con la finalità di sostenere le aziende nell'emergenza post-Covid-19. Abolizione dello split payment, intervento con un taglio sulle accise e sull'IVA dei prodotti petroliferi destinandolo agli investimenti nei poli industriali, abbattimento del cuneo fiscale per sostenere l'occupazione e contributo a fondo perduto per le aziende del comparto degli eventi. I quattro dossier sono stati inviati ai parlamentari nazionali della provincia di Siracusa a Confindustria e alla delegazione di Bruxelles di Confindustria. Il Governo avrebbe avanzato a Bruxelles la richiesta di proroga dello split payment se questa richiesta sarà confermata. Molte aziende del settore delle costruzioni e delle costruzioni di impianti industriali continueranno ad accumulare elevatissimi crediti di imposta perché fatturano il regime di split payment ad aziende quotate inserite nell'indice FTS e MIB della Borsa italiana Eni, Saipem, Snam, Etel, Terna ecc. L'azione è stata riconosce dal Presidente della Sessione Imprese Metalmeccaniche di Confindustria di Siracusa Giovanni Musso e da Ance per le stazioni pubbliche appaltanti. Per ottenere rimborso di tali crediti occorre più di un anno. Tale ritardo crea una forte contrazione nel cash flow delle imprese che in un periodo come quello che stiamo vivendo crea effetti devastanti per mantenere una equilibrata gestione aziendale. È necessario pertanto abolire lo split payment consentendo di compensare mensilmente tra IVA a credito e quella a debito fatturata ai clienti. Velocizzare i rimborsi consente di aumentare la liquidità delle imprese senza pagare alcun onere finanziario. Inoltre Confindustria di Siracusa propone un patto tra lo Stato e il settore della raffinazione per garantire da un lato gli investimenti da parte delle aziende che allo Stato attuale non hanno più margine da destinare agli investimenti e dall'altro l'indotto del settore che oggi impiega circa 130.000 unità. Tale patto consisterebbe nel destinare una quota percentuale del gettito accise 26 miliardi di euro e una quota percentuale del gettito IVA 12 miliardi di euro sui prodotti petroliferi vincolate secondo i seguenti scopi per seguire gli obiettivi della transizione energetica e di un modello di sviluppo sostenibile come previsto dal New Green Deal sostenere gli investimenti da parte delle aziende del settore che stanno subendo gravi danni per lo sciocco dell'invenduto e dal crollo del fatturato determinare un effetto leva sull'indotto tale da poter agevolare e sostenere i livelli occupazionali per tutto il 2020 e il 2021 assicurare la dotazione finanziaria per le zone economiche speciali e istituire finanziari centri di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie